Presidente Tringali, la stagione alle porte. Già si è giocato la prima partita di Coppa Italia, il campionato sta per iniziare, ma continuano i problemi con il campo, con lo stadio La Carlina di Tre Castagni, queste, chiamiamole, incomprensioni con l'amministrazione comunale. Ma più che incomprensioni c'è un completo assenteismo dell'amministrazione, nonostante in più occasioni abbiamo sollecitato per iscritto e anche verbalmente nell'ultima riunione di 15 giorni fa, tenutasi anche con l'altra società che è il Real Tre Castagni, per vedere di poter essere compatibili nello svolgimento dell'attività. Il sindaco ha promesso che presto emanerà un bando di gara per affidare ai privati, a una società privata, la gestione del campo, per la manutenzione ordinaria. E nel frattempo noi altri ci siamo adoperati, noi altri dico io, i miei operai, la mia società, a ripulire i spogliatoi, a sostituire pompe per l'acqua calda, a fare di tutto come se l'amministrazione comunale fossi io. E questo non è possibile, né è tollerabile. Noi lo facciamo per dare continuità alla vecchia tradizione calcistica dei Tre Castagni. Rimane però un problema, un problema importante, perché avete sistemato tutto, ma veramente tutto l'abbiamo documentato anche con le nostre telecamere, rimane il problema dell'illuminazione, perché non possono essere previsti e prevente programmati allenamenti sempre alle 3 alle 4 del pomeriggio, vi dovete allenare più tardi, comincia a fare buio e c'è il rischio concreto che dovete emigrare da qualche altra parte. Ma il nodo principale per cui io parlo di assenteismo è questo. Abbiamo sollevato l'amministrazione da tutte le altre incombenze e le manutenzioni ordinarie, e rendendo dignitosamente e igienicamente accettabile la struttura. Ma senza l'impianto di illuminazione, perché i cavi sono stati rubati quest'estate sia nel campo da calcio, sia nel campo da tennis, sia negli altri due campetti, abbiamo fornito addirittura dei preventivi per aiutare ancora di più l'amministrazione. L'amministrazione ci fa sapere, ieri, così abbiamo avuto questa brutta notizia, che addirittura prima del 30 di settembre non si parlerà di questo appalto per la gestione. Non hanno i soldi per poter... E noi come facciamo ad allenarci dalle 6 alle 8? I miei giocatori lavorano tutti, quindi possono allenarsi a quell'orario, non è che possono allenarsi più alle 3 del pomeriggio. E loro parlano soltanto che questo campo è bello, è questo, ma è bello perché io pago il custode, pago gli operai che l'hanno rimesso a posto e tutte queste cose. Lei lo ha scritto, già ha inviato una lettera datata a 29 luglio all'amministrazione comunale, minacciando, tra virgolette, di riportare la squadra a Battiati. È una minaccia concreta, perché se non cambia qualcosa voi dovete veramente tornare indietro. Non è nelle mie abitudini minacciare nessuno, io ho semplicemente diffidato l'amministrazione e così come mi ha chiamato per poter dare continuità a una gestione fallimentare del vecchio Trecastagni e quindi far venire la mia società da Battiati a Trecastagni. Io ho detto semplicemente, se io mi devo occupare di tutto, scusate, io resto a Trecastagni, non ho nessun problema, l'amministrazione lì ci ha dato sempre una grande ospedale a Battiati e io a Trecastagni cosa vengo a fare? A fare divertire il sindaco, la sua giunta e tutta l'amministrazione a spese mie? Assolutamente, io ho pronto nulla osta per tornare a Sant'Aga da Battiati, mi dispiace che ormai si chiamerà per un altro anno Trecastagni, ma la mia è una diffida che metterò per iscritto oggi stesso e la protocollerò in modo tale che il sindaco abbia argomenti su cui riflettere. Io sono amico di tutti, però presa in giro non ne tollerò da nessuno. Ci siamo? Va bene, è fatto bene. Che tempi, questo ho detto, cioè che tempi si è dato.